Più persone hanno attacchi di cuore il lunedì. Potrebbe esserci qualcosa in più per lo stress e l'ansia che molti di noi sentono venire lunedì mattina dandoci un motivo in più per restare a letto per un weekend di tre giorni. Uno studio del 2005 condotto dalla Tokyo Women's Medical University giapponese ha rilevato che una delle principali cause di più attacchi cardiaci la pressione del sangue è stata costantemente più alta nei volontari di studio di lunedì rispetto a qualsiasi altro giorno della settimana. Uno studio precedente ha confermato che, in effetti, più persone soffrono di attacchi di cuore il lunedì il 20% in più rispetto agli altri sei giorni. Due gruppi di partecipanti sono stati monitorati e quelli che sono andati a lavorare lunedì mattina hanno mostrato il picco più alto o un cambiamento nella loro pressione sanguigna, mentre altri che non hanno dovuto lavorare quel giorno sono rimasti gli stessi. Mentre molti di noi si rendono conto che tornare al lavoro può essere moderatamente stressante, il fatto che ci siano più attacchi di cuore a lunedì sopporta l'esame. Un altro studio ha rilevato che il semplice spostamento al lavoro può causare ulteriore stress, aumentare la pressione sanguigna e rimettere i lavoratori di ritorno a un ulteriore rischio di attacchi di cuore il lunedì. Chiunque si sia seduto al traffico del lunedì mattina sulla strada del lavoro può essere d'accordo sul fatto che è sicuramente induttivo lo stress. Alcuni potrebbero ritenere che la regolazione dalla modalità weekend alla modalità lavoro sia troppo difficile, con conseguente stress e ansia. Mentre i ricercatori sostengono che lo studio era troppo piccolo per determinare in modo definitivo se il picco della pressione arteriosa è dovuto al ritorno al lavoro di lunedì, o è dovuto ad un altro fattore, sembra logico che lo stress del ritorno al lavoro contribuisca a più cuore attacchi a lunedì. Sfortunatamente, questa ipotesi non spiega perché il giorno che arriva in secondo luogo con il maggior numero di attacchi di cuore è sabato. Un'altra statistica interessante mostra che gli attacchi di cuore si verificano in genere dalle 4 alle 10 a causa dell'aumento di adrenalina che le ghiandole surrenali rilasciano al mattino. Questa adrenalina aggiuntiva può portare alla rottura della placca nelle arterie causata dal colesterolo. Con oltre un milione di americani che soffrono di attacchi di cuore ogni anno, il campo medico è costantemente alla ricerca di una risposta sul motivo per cui ci sono più attacchi di cuore a lunedì. Speriamo che un giorno un ricercatore possa trovare una ragione più convincente del motivo per ideare programmi preventivi per ridurre il numero di infarti lunedì. Nel frattempo, i lavoratori possono provare a ridurre l'ansia che sentono i lunedì dormendo abbastanza domenica notte, iniziando la giornata con una buona colazione, usando tecniche di rilassamento per entrare nella giusta mentalità, evitando il traffico in auto o prendendo i mezzi pubblici, o meglio ancora, togliendo del tutto i lunedì. Altri cambiamenti nello stile di vita come una dieta e un esercizio fisico adeguati possono aiutare a ridurre il rischio di infarto. Se trovi che il tuo lavoro è un'enorme fonte di stress, cerca di trovare un modo per ridurre lo stress del lunedì mattina o trovare un lavoro meno stressante per la tua salute.